Ciao a tutti, questo video è la realizzazione di un progetto che tenga il capo di assai tenni, Ascoltà la Salegna. La ricchezza culturale della nostra terra è dare anche a tutti i luciati che erano in Kipure o in Trenta. Alla Rippa di Maschì, per cui al 1300 era una colonia catarana. È particolare già sempre, ma non sono i luciati. Se ti ti sposti dal nord, chi ha il paese a Carloforte, parliamo con chi. Quello che ti senti è l'autabarchi, un dialetto ligure che pinge il nome di Luisa de Taborca, un dellea emigrate del pesquai del cuolo che veniva da Liguria e che arrestò lì fino al 1700. Grazie poi a un re di Sardegna, una porta degli altri ha se a trasferìa in tutto sud ovest, e alla lì va fondato Carloforte, l'unico paese di Luisa de Sant'è. Catalano, su Ligure, ma è desiderante. Alla schiena, chi sapeva l'imbasarda, arriva a pezzi del succo di l'isola, di questa barbagia. Solo noi abbiamo scontrastato tutto il cusso che sono arrivato sopra la conquistare. La Sardegna è una prenda di oro, e noi ne siamo orgogliosi. Ma va, su Sardegna si chiede a noi, in su Campidano, ma voi, Ita, e noi è cazzo. Che io lì sei una risposta a questa domanda, Ita, suono vai di Sardegna, dove si dice a noi? Deganto se usi importanti, fin se a sua sua paia veniva in noi a Sagatai, puoi imparare su Sardegna. Ma, sa verità, su Sardegna lo vediamo in noi, come ti hai mai detto a Zegna cantare l'Ogudorese? Utieri è sabato e la sua poesia, e non è sostituito sull'isola antico premio della letteratura Sardegna. Ma cosa sto dicendo, i chisti? Boh, io non ho capito nulla, non so che voi. Vi posso dire che io vedo un saldo corso, particoli corsi, siamo fratelli in primo. Insomma, tra l'omare e l'ugranietto, fai due mondiali a tutto il campo nostro. Raga, pure l'Ogudorese è frutto di un'influenza di un canale corso. Ahio, ma noi siamo i più ciòfragliore di tutti, che credo di ammettere? Ahio, non vi credo che non mi conosci. Sardegna è una dittà importantissima, è stata la capitale del giudicato di Torres. Ma non vi capito a Sardegna, non lo conosci. E da voi, non l'hai mai vista la parata di Gandareri? Cosa? E tu hai compreso? Ah, se sei migliore, mira. Io ho un po' che dirà, manco male che la traduzione scriverà sotto. Però non è manasse di baragliare, perché ancora io che ti ho l'influenza del, e la diversità, è di proteggere. La Sardegna è unica. E allora, andiamo a scoprire insieme la questione di vesti e tabarchi. Viva Sardegna! Viva la Sardegna! Viva la Sardegna! Allora, che mi stendi, tocca a dirla! Le saldi, siamo le bello! Raga, dai, la Sardegna è la più bella di tutti! Ahio! Viva la Sardegna! Allora, che mi stendi, tocca a dirla!